Ciao ragazzuoli, oggi parleremo del root su Android perché lo sappiamo, è inutile dirlo, il root ci permette di velocizzare il cellulare, di aumentare la durata della batteria, di utilizzare anche più applicazioni perché comunque possiamo utilizzare applicazioni appunto che come detto prima ci fanno aumentare la batteria, ci fanno aumentare la durata della batteria, ci velocizzano il telefono e che ci permettono anche di poterlo customizzare quindi personalizzare più a fondo di quanto non possiamo già fare senza root. Poi ci sono tanti altri motivi per i quali una persona decide di effettuare il root sul suo dispositivo ma questi sono i principali e sono i maggiori pro del root, però chiaramente il root ha anche dei contro, perciò il root rovina il cellulare? Lo vediamo in questo video. Ma chiaramente dico cellulare perché va ben così, chiaramente in questo discorso si può complicare anche a tutti i dispositivi che eseguono Android e che quindi è possibile effettuarci il root. Vorrei anche farvi presente che sono un utente che ha sempre amato il modding o ho fatto il root sul mio scorso cellulare perché era un po' su questo qui nuovo no, ma insomma quindi non prendete questo video come oddio tu odi il root allora adesso ti app... No, tranquilli, non arrabbiatevi. Posso subito, passando subito al sodo, rincuorare coloro che hanno il root. No, di per sé il root non danneggia il dispositivo. Questo perché il root altro non è che una semplice modifica software, una modifica software ok ci invalida la garanzia ma effettivamente non ha il potere di danneggiare un dispositivo, perlomeno non può danneggiare la parte hardware. E sappiamo anche che Android è base Linux, base, è il kernel Linux. Linux a sua volta è un kernel Unix-like e sappiamo che i sistemi operativi Unix-like sono praticamente nati per essere luttati, insomma comunque per essere utilizzati con permessi più elevati. Tuttavia vorrei sottolineare la frase che ho detto prima e che ho cercato anche un po' di marcare. Di per sé non rovina. Ho detto questo perché la procedura di per sé, il root di per sé, non rovina il cellulare, ma ciò che potrebbe andare a rovinarlo sono le modifiche che ci possiamo fare, soprattutto anche la procedura, perché se la procedura viene eseguita male e quindi appunto facciamo qualche errore, perché gli errori chiaramente possono capitare anche a quelli più esperti, una svista o qualcosa può capitare a tutti, siamo umani, quindi ecco. E quindi già il fatto che la procedura potrebbe andare male vuol dire che potenzialmente potrebbe portare a un brick del cellulare. Il brick cos'è? Brick semplicemente significa che non è più avviabile. O comunque si avvia ma potrebbe avere diversi problemi come bootloop o non funziona più la parte cellulare e queste cose. Però anche se la procedura di root dovesse andare liscia, quindi anche nel caso riuscissimo effettivamente a effettuare il root senza problemi, che di solito comunque la procedura è molto raro che non vada a buon fine, anche se non va a buon fine comunque non va sicuramente abbricare il cellulare o comunque anche questa è una cosa molto rara, appunto le applicazioni che decidiamo di installare e le modifiche che decidiamo di andare ad effettuare, quelle sì possono rovinare il cellulare. Chiaramente per rovinare intendo sempre la parte software, perché la parte hardware è difficile che tramite il software riusciamo effettivamente a rovinarla. È difficile, è raro, ma non impossibile, quindi comunque attenti. Anche se comunque vada c'è da dire che siamo abbastanza coperti dal fatto che per effettuare il root ci serve una recovery modificata, perché dobbiamo andare a flashare lo zip che poi ci permette di ottenere questi permessi. Quindi prima di fare il root di solito si fa un Android backup. Un Android backup cos'è? Un backup molto approfondito di tutto il sistema del nostro dispositivo in modo che in caso di problemi, in caso di instabilità o di queste cose, dopo una modifica possiamo recuperare l'Android backup e quindi tornare alla fase prima della modifica e questa è una cosa molto comoda perché può essere fatta direttamente dal dispositivo. Ma nel malaugurato caso che non dovesse entrare in recovery per qualche motivo, e tranquilli che può anche accadere, possiamo anche ricorrere a uno dei tool che i brand più famosi di solito mettono appunto a disposizione. Per esempio se parliamo di Samsung c'è Odin, poi comunque ogni azienda ha la sua, io non me li ricordo i nomi delle altre, appunto. Tramite questi tool possiamo andare a flashare completamente l'immagine di sistema, quindi anche recovery, avanti così, in modo da recuperare il cellulare. Quindi dopo averlo recuperato così non avremo più il root, però perlomeno avremo un telefono funzionante. A parte tutto ciò comunque c'è anche da dire che il root può rendere più vulnerabile il nostro cellulare. So che questa è una cosa sbandirata da tutti, di solito se voi guardate i motivi per i quali non fare il root è messo tra i primi posti. Oddio non fate root perché può distruggervi la vulnerabilità. Certo è vero, può effettivamente rendere meno vulnerabile il cellulare. Perché? Perché avendo appunto i permessi di root, oltre al fatto che rischiamo di non poter più ricevere gli aggiornamenti, e già questo appunto è un fattore che va a mettere in forte rischio la sicurezza. Però c'è anche da dire che avendo un root apriamo effettivamente una porta, perché chiunque entri nel nostro dispositivo poi tramite root potrà agire da superutente, quindi questo mette in pericolo la sicurezza di Android. Se dovessimo, tanto per fare un esempio, installare un'applicazione spyware tramite root potrebbe andare a capire i nostri dati più a fondo di quanto non potrebbe già fare con, appunto, senza root. Però questo fatto può essere già più arginato se non installiamo applicazioni da fonti insomma abbastanza dubbie. Non installiamo la prima applicazione del gioco che ci piace craccato che troviamo su internet, perché se avete un cellulare non rootato forse potete anche tentare, anche se non è proprio sicuro. Però se avete un cellulare rootato ecco, meglio non farlo. Poi certo, vabbè, tralasciamo il fatto che esistono anche i rootkit. I rootkit cosa sono? Sono dei malware che si preoccupano loro stessi di ottenere i permessi di rootkit, in modo da poter agire più a fondo. Però appunto tralasciando questi che sono i malware un po' particolari, ecco, però se vi ricordate in inizio video dicevo che dopo aver effettuato il root le applicazioni che diventano compatibili con il cellulare potrebbero essere molte, perché diventano compatibili tutte quelle che appunto richiedono root. Ma se ciò è vero, è vero anche che molte altre applicazioni potrebbero diventare non compatibili. Prendiamo ad esempio i giochi. I giochi risaputo che non tutti, ma molti, dopo aver effettuato il root non funzioneranno più. E qual è il motivo di questa scelta? Il motivo di questa scelta è molto semplice. Questo perché avendo appunto i permessi di root è molto più facile poter installare dei trucchi, quindi poter andare a giocare con i trucchi. Ma oltre ai giochi, che potrebbe essere un fatto un po' uno diceva, vabbè ma i giochi non mi interessano, potrebbero rendersi incompatibili anche applicazioni bancarie. Poi altre, ma insomma applicazioni bancarie e che hanno a che fare comunque con i soldi. Questo perché, per via del motivo che ho detto qualche minuto fa, ovvero che un cellulare con i permessi di root è più vulnerabile. Quindi per questo motivo, appunto per sicurezza, le applicazioni bancarie o che comunque trattano soldi diventano incompatibili, quindi non funzioneranno più, per evitare che mettendo password o comunque dati di carte di credito e avanti così, vi vengano poi effettivamente carpiti. Quindi, questa è la mia risposta a chi mi dovesse chiedere, ma secondo te il root rovina il cellulare? Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e soprattutto, se così fosse, lasciate un like, iscrivetevi perché no, se dovesse farvi piacere chiaramente, e noi ci ritroviamo in un prossimo video. Ciao belli!